Il terbiariettino di seconda categoria tra Fortis, Rezzo e Vicomaggio finisce in parità. Senza vinti e vincitori ha premiato la determinazione della Fortis che, giocando in casa, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo riuscendo a strappare un pari che sicuramente, forse, va stretto al Vicomaggio. La Fortis, dal canto suo, forse non poteva fare di più dopo essere rimasta in dieci per l'espulsione di Braccalenti nella ripresa. Nel primo tempo è la Fortis a passare in vantaggio dopo alcuni scambi a Gelli che riceve a metà campo, dopo la norma del vantaggio, si porta al limite dell'aria e con un irresistibile destro trafigge l'incolpevole Barbagli, 1-0. La reazione del Vicomaggio è vibrante al quinto della ripresa, colpo di testa di Faralli che si stampa sulla traversa. Un minuto più tardi l'episodio decisivo, espulso Braccalenti e per fallo da ultimo uomo. La punizione viene respinta dalla barriera ma nell'azione seguente Razzolini che arriva dalle retrovie e con l'aria affollata trova con il collopiede un tiro possente e soprattutto l'angolo alla destra di Claudi, 1-1, pari del Vicomaggio. La formazione ospite cerca l'assedio per trovare la posta piena ma rischia al venticinquesimo su Cencini che cerca di beffare gli avversari sull'unico calcio d'angolo battuto nella ripresa dalla Fortis. Finisce 1-1.